Vediamo un po' di occuparci oggi di casi di bullismo, sì più o meno bullismo, che poi insomma quando è un'allenatrice che dà dell'ippopotama a un'allieva, un'allieva che fa ginnastica artistica, sapete insomma casi di questi ne abbiamo sentiti tanti, insomma si è beccata una sospensione di 45 giorni, per un'altra che aveva colpito a un braccio un'allieva l'assenzione è stata di appena tre mesi perché altre atlete hanno percepito scarsamente la gravità degli episodi, insomma questo è quello che si legge nei vari articoli di giornale per prendere la notizia da sponda, ma con Serenella Salomoni stamattina parliamo proprio di questo tipo di comportamenti. Buongiorno Serenella Buongiorno, buongiorno a voi Allora, ne sentiamo continuamente di questi fatti Ma sai, io come psicoterapeuta mi sento da anni, però io dirò che purtroppo punterei sempre il dito sulle società, cioè la società significa l'allenatore, significa tutto quello che ci sta intorno al business che c'è Perché queste sono cose che ho sentito in tutti gli sport, specialmente in quelli dove devi passare di categoria, devi abbassarti di peso, quindi devi fare delle diete e nelle ballerine classiche ad esempio Quindi intendo dire in tutte quelle situazioni dove una donna deve dimagrire per forza per rientrare in una taglia che non è la sua alla fin fine Quindi noi queste cose le vediamo, le sentiamo tante, a parte la faccetta delle modelle, che quella sembra una cosa che si sapeva, ma questo dello sport, devo dire quella ragazza che ha denunciato è stata anche molto brava a farlo Perché solo così, a ribellandosi, è che quando tu sei in una squadra che sei stato pompando per portarti alle Olimpiadi o per fare delle gare Lo sai anche tu che sei un esperto di karate, sai anche tu le cose che succedono quando uno deve andare per forza a fare quella gara E l'allenatore lo tormenta in continuazione finché non fa quello che dice lui Queste cose, oltre a parte il peso, le vediamo anche nelle squadre di calcio dei bambini Quello che succede è cosa fanno gli allenatori con questi bambini e specialmente cosa fanno i padri all'atto del campo quando il bambino deve giocare Quindi noi dobbiamo pensare che queste persone sono fragili perché i nostri figli sono giovani Quindi non possiamo permetterci di fare cose di questo genere perché possono diventare veramente molto pericolose E rovinargli la loro qualità di città Assolutamente Per essere senza autostima Quindi pensiamoci molto bene e cerchiamo di cambiare Importante, sta autostima diventa sempre più importante Comunque ci lavoreremo tanto Grazie davvero Serenella Buona giornata Buona giornata e buona settimana Ciao 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 ciao